Ok, facciamo così, accetto il rematch e adesso giochiamo bracciamente. Ok, aspetta che ti vedo con... Sì, ha giocato C4, siamo neri. Ok, pedone. Pedone, quindi faccio questo. Ok, ok. Wow, cavallo. Facciamo pedone. Pedone, pedone, faccio... Voglio fare questa. Facciamo questa. Uh, interessante. E facciamo di nuovo cavallo. Cavallo? Sì. Ok. Ok, facciamo pedone. Pedone. Ah, vuoi fare... Ok, ho capito. Vorrei rompere il... Ah, no, vabbè. Ah, no, pensavo vorresti... Scusami, no, pensavo vorresti fare... Alfiere? No, va bene uguale. Re? Sì, ok. Immaginavo vorresti roccare. No, no, mi tornava in effetti... Cioè, G6, però... Pedone. Pedone, ok. Ok, è perché a me piace giocare più siciliana chiusa, tipo, quindi... Ah, scusa. Fare di 5 è tipo una cosa che mi torna malissimo. Contratto a religione. Facciamo alfiere. Alfiere, giusto. Ok, alfiere. Ok. Vediamo pedone. Pedone, idee trash. Attenzione. Un po' trash, vediamo cosa fa. Ok, la vista, però... Diventiamo super trash, lo chiamo cavallo. Cavallo? Pensavo donna, sai? Io ho un'idea trash, molto trash, però. Aspetta, tu... Non so se la vedi. Oddio, cavallo... Cioè, non ha tantissime case, eh. Eh, però è molto trash. Cioè... Lascia un pedone in presa, diciamo. Eh, no, visto... Ah, perché tu dici puoi fai cavallo B3? Esatto. E minacci, ok, vediamo un po'. Vediamo come funziona. Quante ne vedi? Quante ne vedi, Emanuele? Eh, quante sono giuste, però poche. Ok, cavallo. Cavallo, ok. Rimuoverò la torre. Eh, ok, adesso... Proviamo Regina. Regina, ok. Io vi ho giocato su... Ah, no, aspetta. Qua c'è un problema. Non si può fare donna G5. Eh, no, non mi si no. Quindi... Devo fare un'altra cosa. Facciamo donna... 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 Donna K... Non si può fare. Facciamo donna... Esetta. Sì, sì, mi piace. Peccato, ci speravo in donna G5. Invece non funziona. Eh, no, perché hai quattro. Adesso provo pedone. Ok, qui pedone va fatto. Mi piace, mi piace molto. Prende, quindi... Eh, Regina, perché sennò ci inchieda tutto. Anzi, Alfiera, 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 sono stupido. Alfiera? Sì. Ok. Ok, e qua, Alfiera? Se non ho sbagliato a contare. E poi torre. Ok. Giusto. Così dovrebbe essere... Adesso, se... Giochiamo pedone. Sì, ok. Così dovremmo esserci. Perché adesso hai torre. Eh, beh, scusami, come vado in vantaggio materiale? Dove metti il cavallo? Perché c'è torre per, poi prendi il cavallo, lui prende il di regina e poi puoi giocare subito torre di 8 e... Ah, ok, posizionale, diciamo. No, ma in realtà anche il cavallo è fuori posto, può fare soltanto cavallo a 5, mi sembra. Ah, no? Ok, aspetta un attimo che questa cosa mi ha un attimo destabilizzato. Vabbè, no, in realtà no, eh. Cioè, se ci pensi c'è una mossa forte. Sì, pedone. Ok. Ok, ovviamente torre. Qua giochiamo torre, di nuovo. Torre la mettiamo in... Qui. Sì. Ok, pensavo torre 8 attaccando l'alfiere e il cavallo, però va bene uguale. Torre... Ah, torre 8. Ok, no, l'idea è che così la posso mettere in G5, se voglio. Ok, torre di nuovo allora. Tanto comunque c'è ancora la fele sotto, quindi... Adesso posso fare anche donne 4 con tempo. Facciamo regina? Eh sì, donne 4 attacca tutto. Esatto, così dovrebbe essere vivente. Cioè, non vedo proprio niente per parare. Eh, esiste una cosa, l'abbandono. Ah, donne F1 c'è in realtà. Eh no, donne F1, prendi l'alfiere. Eh, scusami, prendo l'alfiere, vabbè. E poi giochi il 2. Ah, e poi cavallo 2, certo. Cavallo D2. Esatto. Ah, addirittura... Forse... no, forse posso fare cavallo F3 senza prendere. Aspetta, cavallo F3? Ah, sì. Aspetta, fai pensare... No, regina, qualche regina è più facile. Qui in realtà posso fare anche... No, sì, donna, sì. Aspetta, posso fare donna per torre in realtà, aspetta, ci penso. Sì, vince tutto. Devi solo trovare un modo veloce per vincere perché sei sotto di tempo. Sì, allora faccio donna per torre. Perché donna E3 fa donna F2. Vabbè, cambiavo e dicevo quale. Ok, abbandona. Si è fidato. Ok, abbandonato. Si è fidato nel conto. Dai, facciamo così, diamo un altro rematch che mi sta piacendo vincere. No, nel senso... Obbligato, obbligato. Vai, dimmi. Pedone. Pedone. E saluto il nuovo follower... Faccio i 4 stavolta. Saluto il nuovo follower Cupido97. Cupido. Come ti piace giocare la francese? Come ti piace giocare la francese? Ignorantissima. No, guarda, in realtà... Sì, dai, pedone. In realtà io ho studiato l'attacco indiano sul... Ah, scusa. No, no, ma avrei dovuto giocare di 3 in realtà, no? Cavallo. Avrei dovuto giocare di 3 invece ho giocato io di 4, volutamente. Ok, cavallo di 7. Facciamo cavallo. Ok. Ok. Giochiamo cavallo. Cavallo? Io di solito prendo e poi gioco alfiere G5. Ok, va bene. Quindi alfiere? Comunque alfiere, sì. Non so quanto siano buoni, in realtà questi sistemi, però in blitz funziona. Pedone. Pedone, ok. C3 vuoi fare? Esatto. Alfiere. In realtà è un po' che non gioco questa linea. Prima giocavo cavallo C3 sul D4. Ok. E qui c'è cavallo. Qui è cavallo. Cavallo, ah, ok. Avevi detto donne 2 in realtà. Prova bene. No, sta roba me l'hanno giocata contro, tipo, me l'hanno giocata contro un maestro internazionale, mi ha devastato, arrocco. Ok. Anche A4, idea trash, molto carina. Però vabbè, avrebbe roccato. Se vuoi continui a giocare di pressione, tipo, giochi regina. Che devo fare qua? La regina, secondo me, vinci. Cioè, è buona. Sono tutte mosse che mi hanno giocato contro e io ci sono rimasto davvero malissimo perché apparentemente non c'è nulla di sbagliato, però dopo un po' crolla tutto. Regina di nuovo? Sì. Esatto. Sì, 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 no, questo è un attacco tipico anche del London, insomma. E poi qua puoi giocare pedone tranquillamente. Pedone? No, devo capire che pedone vuoi. Come dicevi prima, va bene. Giusto per fermarlo un po' sulla regina, sulla la di regina. Ah. Esatto. Ma tu dici regina, quindi non dici donna? Evo, cambio. Eh, facciamo torre. Torre. C5 non l'avevo vista. Allora, senti, faccio una cosa un po' a caso, faccio una cosa un po' a caso. Ci piacciono le cose a caso. Allora, in realtà mi chiedo se... Dove ho fatto torre? Dimmi, scusa. Torre di nuovo? Torre, ok. Sì, va bene, va bene. Sta giocando meglio. Non ho capito? Che non sta giocando male adesso. Eh, no, infatti. Ma tra l'altro c'è ancora tre minuti abbondanti. E tre più due, no? Sì, tre più due, sì. Ok. Ok, fammi pensare un attimo. Provo alfiere. Alfiere. Io non so funziona. Vuoi fare alfiere per F6, no? Però se fai cavallo per F7 prima, mi sa che si può prendere in H7 e poi prendiamo in G6. Vuoi prendere cavallo per F7? Eh, cavallo per F7 è per... Alfiere per F6. Sì, sì, mi piace, mi piace. Cavallo per F7, giocalo. Ok, dai. Vai che si va sul trash, vai! E poi gioca alfiere C4 dopo. Alfiere C4 è cattivissimo. Ah no, prendo direttamente in H6, prendo. Prendi in H6, prendi in H6, va bene. Eh, prendi in H6 direttamente. Eh, vabbè, qua c'è proprio... Aspetta. E poi io alfiere. Alfiere B5. Alfiere B5. Attenzione, quante ne vedi? Alfiere B5 è fortissimo. Eh, però alfiere C6. Eh, alfiere C6, ok, sì, certo. Cazzo. Adesso possiamo fare però alfiere C4. Sì, sì, mi piace. E attacchiamo sull'ebolezza. E lui deve giocare il cavallo D5 però. Se gioca il cavallo D5 è alfiere per cavallo. Oppure... No, non lo so. No, mi sa che abbia sbagliato qua. Fa un bagno. Ci pensiamo, eh, sul cavallo D5 ci pensiamo. Vabbè, diamo un po' la chat cosa dice. Questa posizione mi ricorda quando giocavo lo Stonewall col bianco bei tempi. Ma, cioè, sei una persona triste che giochi lo Stonewall col bianco. Ecco, ecco, a parte gli scherzi, ma tu... Cioè, come cavolo fai contro lo Stonewall? Io faccio veramente schifo. Mi hanno distrutto. C'è un maestro feed su chess.com, che sarà F1 2005. E mi distrugge con lo Stonewall. Eh, Regina? Regina? Eh, sei sicuro? File per, File per... No, ok, dici donna, funziona. No, 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 Regina. Quindi spostiamo la donna, la mettiamo in H-Trash. Sì, esatto, H-Trash ci piace. Tanto mi raccomando... No, non mi raccomando, però è... Quasi matto in una. Salve troppo bello, se ci fosse una casa... No, comunque sullo Stonewall... Regina, Regina, questa è vinta, è vinta adesso, Regina. Eh, aspetta, cosa la metto? Eh, in H6? Sì, è vinta. Così è vinta. Torre? Sì, è così, sì, certo. Come stavo ad H8? Non capivo su H8... Avrei preso... Alfiere? Eh, ciao, adesso provociavone. Donna? Donna, mattino. Sì, esatto. Molto bene, molto bene. Beh, basta. Ma tu come fai contro lo Stonewall per bianco? Stavo perditi. Quando ti giochi contro da nero? Sì. Allora, quando ti gioco... Ah, da bianco, quindi si fanno... Ok, quindi se giocano prima di quattro... Vabbè, senti... La cosa è questa. Comunque tu devi giocare sulle case chiare, no? Se ti giocano Stonewall da bianco. Allora, sul libro Teoria e pratica degli squilibri di Silman, c'è un capitolo dedicato proprio a come distruggere lo Stonewall. Cioè, non è proprio direttamente dedicato. Però ti parla... Ti parla di... Non mi ricordo quando sei il capitolo, no? Però c'è proprio un sistema. Mentre tu giochi alfiere F5, quindi tieni la casa E4. Cavallo F6, tu fai G6. Ok. E così anche se ti cambia l'alfiere tu hai il pedone in F5 che controlla la casa. Sì, perché io di solito cerco di cambiare l'alfiere cattivo con il suo buono. E però di solito... Cioè, se lui... Se l'avversario è forte e inizia a spingere i pedoni, io la maggior parte delle volte mi ritrovo in posizioni veramente assurde difendere che poi non reggono. Ed è un problema abbastanza comune perché comunque è un buon sistema per il bianco. L'ho visto anche contro giocatori forti. È rischioso, però se giochi corretto e il nero non riesce a trovare un modo per difendere in modo energetico, come direbbe Grishuk, non ce la fai. Eh sì, però ti confesso, non mi capita da un sacco di tempo di giocare contro uno Stonewall. Cioè, non è un'apertura che vedo... Eh, ma neanche a me, ti ripeto, c'è solo sto cavolo di maestro Fide spagnolo, tipo, che continua a giocarmelo e... Tipo, ho fatto un mini-match, dieci partite, ho perso sette e mezzo, due e mezzo. Ci sono rimasto male. Eh sì, sì, no. Se becchi un'apertura su cui non riesci a giocare è un casino. Hai provato a vedere le lezioni di chess.com o non c'è la membership? Eh, non c'è la membership, però adesso me lo prendo. Ecco, bravo, bravissimo. Perché con l'università adesso ho poco tempo e sto giocando poco. Ho giocato un paio di partite la settimana scorsa, ho droppato cento punti, molto facili. E cosa stai studiando all'università? Ingegneria elettrica, al Poli, in Torino. Ah, ah, ah. Sì. Ah, bene, bene. Ah, tra l'altro sì, mi ricordo di a proposito di Torino, sì, mi ricordo di averti detto vai al circolo, insomma, conosco un po' i scacchisti torinesi. Sì, 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 sì. Quindi, insomma, tanta roba, sì. Ok, io direi... Ma tu invece... Dimmi, dimmi, scusa. Cos'è fai l'università? Hai fatto, cioè, quanti anni hai da parentesi? Non lo so. Ho 24 anni, li ho fatti da poco. Stavo facendo matematica. Ah, capisci, uno dei miei miei amici sta facendo matematica. Ah, sì? Sì. Dove? A Torino? A Torino, a Torino. Ok. No, ci ho pensato a matematica, però temevo che rimanesse un po' troppo teorico, non lo so. Senti, dipende dall'indirizzo che prendi, cioè, nel senso, se fai l'applicativo, in realtà fai tanti esami di calcolo numerico e cose applicative che in realtà ti inseriscono molto bene nel mondo del lavoro, anzi, secondo me. Cioè, tipo, data analysis è un tipo di lavoro che va molto adesso, cioè lavorare con grandi modi di dati, e quindi, insomma, a matematica fai diversi esami di calcolo numerico che possono essere utili. Capito. Senti, io chiamerei l'ultima partita e poi chiuderei questa diretta. Vedo anche Ciccio Petrarca in chat, di nuovo, buonasera. Facciamo l'ultima partita, facciamo una 3 più 2 così possiamo permetterci di fare questa storia. Ci sta, ci sta. E chiamiamo l'ultima. Sì, non siamo molto distanti come materie, come facoltà, diciamo, alla fine. Certo, ovviamente, la solita diatribano tra matematici e ingegneri. Ah, sì, fa fisici ingegneri, ancora di più. Tipo, sembra il meme del giardiniere Willy, no? Che dice, come scozzesi altri scozzesi. Un po' così. I matematici ce l'hanno con tutti, ce l'hanno. Fate bene, fate bene. Sì, scusa, mi ha fatto E6 istintivo, però mi avresti detto pedone, immagino, comunque. Vai. Aspetta, non ti sto vedendo. E4 e E6 di 4, sì, seguimi. Aspetta un attimo, aspetta un attimo, che aiuto, eccoti. Ok, ci sono. Cavallo. Cavallo, qui. Facciamo cavallo. Cavallo, oddio. Ah, ma tu sei nero? Sì, sono nero. Ah, pedone, pedone, allora. Ok, ci stavo preoccupando. Non è effettivo. Ok, ok, ci siamo. Facciamo il fiere. Ma la diatriba chiede Lady Gaga, non era tra fisici e ingegneri, tra ingegneri, fisici e tutto, eh, tutti chimici e pedone, che prendiamo. Lo facciamo C5, dai, facciamo C5. Va bene. Eh, sì, è tra tutto e tutto. Pedone. Pedone? Ah, prendo in D4, dici. Anche donna per D5 mi intrigava. Ah, noi di solito gioco E per D qui. Ah, E per D. Esatto, c'è scacco, più che altro. E qua devi giocare al fiere D7, ed è un casino. Ma tu dici che non si può giocare cavallo C6, no? Ok, al fiere D7, dai. Troppo complicato, quindi. It's complicated. It's complicated. Ok, qua regina. Qua dovrebbe, alla fine, devi giocare al fiere. Eh, come al fiere? Posso fare cavallo? Cavallo C6 ti prende in B7. In G7, vuol dire. Eh, vabbè, giochiamo col pezzo in meno. No, ok, no, facciamo al fiere, quindi al fiere... Eh, qua, bello, cavallo. Ok. Perché io pensavo di prendere... Cioè, non volevo prendere in D. E cosa ho, aspetta, cosa... Ah, no, pensavo di non prendere in D, vuol dire fare E per D. Volevo giocare per D. Certo, gli mettova tipo una variante di cambio, no? Aspetta, fammi vedere questa linea. Esatto, quello che pensavo. Vabbè, ci sta. Ah, ha preso in A6. Regina, Regina. Qua dovremmo essere abbastanza pari adesso. Il fiereone dovrebbe essere compensato. Regina. Giochiamo un finale inferiore, ma lo pattiamo. Me lo sento. Cavallo. Cavallo, ok. Va bene. Ok. Cavallo. Cavallo? Non mi piace quella del fiere. Provo una cosa. Ok, no, pensavo più cavallo G4, però così... Sì, sì, no, pensavo che adesso fa 3, poi faccio cavallo D5. Sì, si può fare. Esatto, cavallo D5. Infatti, una cosa è certa, tutti bollizzano i geologi. I geologi non rientrano neanche nell'ottica. Cavallo, cavallo. Cavallo qua dovremmo essere a posto. Sì, adesso c'è. Quel pedone diventa... Ok. Questo non me lo aspettavo. Bella mossa questa. Però... Giochiamo di cavallo G4. Sì. Lo obbligo a prenderlo stesso, no? E se fai F3 faccio Rocco Corto e basta. Sì, direi di sì. Vabbè, i geologi veramente non rientrano proprio nella... Neanche lontanamente nella diarriba, cioè... Poveri geologi, nessuno vuol bene. Prova a giocare pedone. Pedone. È un po' azzardato. H5 intendo. Ah, hai detto H6 per evitare... Per togliere la casa G5 al cavallo. No, ho giocato più trash io. Eh dai, giochiamo trash che ti devo deludere, scusami. Cioè, in senso... Anche H2 è impresa dall'altro, vabbè. Eh, infatti. Uno bravo a scacchi nella vita è portato alla follia. Esatto. Sì, infatti c'è questa correlazione tra chi fa le materie scientifiche e chi... Gioca a scacchi. Non a caso. E anche tra chi fa le materie scientifiche e chi è autistico. E anche tra chi fa le materie scientifiche e la sociale. Insomma, c'è un po' di correlazioni... No, dai, noi stiamo... Tu sei C-Society, non puoi essere A-Society. Eh, no, infatti. Se non altrimenti sarebbe A-Social C-Society. No, A-Society Society. Ok, Re. Ok. Anche se Re7 mi intrigava, onestamente. Ah, c'è anche un pedone sotto, ce l'ha dall'altro, vabbè. Vabbè, Torre adesso. Che è sotto a chi ha questo pedone, sì. Il pedone non si difende. La partita adesso dovrebbe essere più equilibrata. Torre di nuovo per doppiare? Sì. Torre di 5. Io c'ho un carissimo amico che fa psicologia, quindi su psicologia non mi esprimo. Però è una questione proprio di... Cavallo? Cavallo F2, sì. Oh, F2. Ok, sì. Dove lo vuoi mettere? Ah, F6. Sì, per prendere il pedone. E vabbè, poi cavallo di nuovo. Cavallo di nuovo. Posso fare anche Torre. No, ok, dai, faccio... No, Torre perdi un pedone perché prendi l'H5, no? Ah, ok, certo. Eh, ma puoi prendere l'H5 uguale comunque? Ah, no, dici, prendi l'H2. Ok, sì, scusa. Pensa tu che conto ti sei fatto. Adesso Torre e poi prendi. Ma perché a volte le linee le vedo tutte quante e funziona tutto, poi altre volte invece credo di vederle e invece non sto vedendo niente. Pedone? Pedone. Per non farsi dar matto, diciamo così. Esatto. Così dovrebbe essere fatto. C'è un pedone sotto. Pedone. Spingi, spingi. C'è un nuovo follower, un tipo che scrive. Ma scrivi in chat allora, un tipo che scrive, così fa vedere che sei un tipo che scrive. E siamo a meno 36, attenzione. Meno 36 dall'obiettivo. Pedone di nuovo, pedone di nuovo. In questi finali di solito spingo tutto quanto e poi prendo quanto di aver perso. Esatto. E pedone. No, secondo me siamo messi bene così. Torre. Torre? Sì. Esatto. Così mi piace. Perché adesso sale col re ma tu puoi andargli dietro. Ok, ok. No. Allora. Fami pensare. Mi hai dato più di due pezzi, nel senso che... Torre. Ok. Mi piace. Torre. Va bene. Adesso si fa... Ah, ok. Ok, adesso re? Inizio a salire col re? Re? Avrei fatto torre c4 per bloccare c3. Ma puoi fare torre d7. Ah, tu dici faccio comunque torre g4. Su torre d7. Poi su torre d7, sì, con torre g4 dovresti parare tutto. E il pedone poi diventa molto debole. Cioè rimane... Ok, torre. Ok. Torre. Torre? Sì. Che devo fare qua? Non lo so. Torre g5. Sì, esatto. Non capisco... Non vedo come possa passare alla fine. Pedone. Faccio pedone, ok. Adesso sì, ok. Adesso mi torna torre g5, sì. Esatto. Ma siamo pari a pedoni, no? Ah, quindi... Sì, 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 ma secondo me così non dovrebbero esserci problemi per nessuno. Se non vediamo modo per aprire la posizione. Sì, potremmo assestarci una patta, una patta francese così un po'. Sì, proponi, direi se vuoi. Re? Sì, sì. Ok, faccio re. Sì, esatto. Se gioca torre, tu gioca torre di nuovo. Torre. Eh, aspetta, però poi sono vincolato alla difesa di... Eh, ma con torre b6 dovresti reggere, no? Non riesci? Sì, ma... Ah, no, cavolo. Sto giocando passivo. No, intendevo torre b6 senza cambiare, così se avessi preso... Ah, torre b6. Eh, sì. Adesso pedone. Sì. Diventa un po' più difficile. Eh, mo' sì, mo' è scomplichato. Torre? Torre. Sì. Senti, faccio una cosa, ma non so giocare bene a questi finali adesso. Ma nessuno li sa giocare bene, però... Esatto, molto bene. Ok, adesso devi salire di re. Ok. Ok, re? Sali. Sali, sali. Tendevo... No, perché se fare 5 non va, cioè... Perdi. Pedone, pedone. Pedone. Mi fretta che sei sotto di tempo. Così, verdo? Ah, no, faccio... E adesso torre, torre... Va bene? No, no. No, no. Torre. Torre c8. Ok. Non vedo come riesco a salvare questa. Torre b8. Eh, no, perché... Infatti ti dico cosa... In analisi ti dico cosa pensavo. Eh, pedone. Eh, no, così è andata. No, no, è andata. Eh, vabbè, così possiamo anche abbandonare. Ma non abbandoneremo. Ok. Eh. Ah, cioè, difende tutto, difende, vabbè. Eh, sì. Ok, adesso si può abbandonare. Ok, analizziamo questa. Che è successo? Cosa è che non è andato? Io ti dicevo... A parte di... Tu hai tolto l'apertura che è andata male. Però andando indietro già al... Allora, 36, 37... 37 io intendevo semplicemente torre b6. Torre b6 direttamente. Continuato torre. Qua guarda, sai cosa comunque... Poi c'è secondo me un errore nel finale. Cioè, che... Dopo che ha fatto b4 alla 27... Secondo me fare a 5 e cambiargli il pedone... Gli rende la sua maggioranza più mobile. Perché in teoria il 3 contro 2 versus il 2 contro 1... In teoria il 2 contro 1 è più facile. Quindi se cambio le torre arrivo prima. Sì, sì, sì. Però onestamente io pensavo che... Tipo, vai alla 36 o alla 36... Sì, sì, no, sicuramente si tiene uguale. Si tiene uguale la posizione. Sì, diventa più difficile. Più che altro avrei detto, secondo me... Ti ripeto, la 37... Quando hai giocato torre per d5... Sì, torre b6. E avrei giocato torre per torre b6. Perché a me in questi casi piace... Cioè, far cambiare all'avversario più che altro perché... Cioè, in questo caso se prende lui... Con re per g5... Dovresti riuscire a tenere tutto tranquillamente perché... Anche se gioca poi c4... Una volta che prendi... Dovresti riuscire a tenere tranquillamente poi... Tipo roba come torre b8, no? Sì, ok. Però credo che lui faccia c4... Parentesi, scusami. Saluto il nuovo follower. Arco Cremisi, benvenuto. Siamo a meno 35... 34. Meno 34 dai 1000, ragazzi. Siamo vicinissimi ai 1000. Comunque sì, credo che possa fare c4 forse subito, no? C4. Ah, c4? C4 subito, a posto su torre b6, dico. Ah, aspetta, fammi vedere. C'è qua la stessa cosa. C'è qua la stessa cosa. Eh no, se devi finire torre prendi il pedone. Vai in metà giù di un pedone, no? Aspetta, tu dici... Allora, tu dici torre G4 scacco, no? Sì. Ok, io faccio torre 5 e D4. Ah, ok. E vabbè, gioco torre G5. Eh, eh sì. E se tu dici con le due torri forse si dipende un attimo meglio questo, comunque. Secondo me questo... Cioè, adesso guardo un attimo, attivo la valutazione del computer. Nel frattempo saluto il nuovo follower che è Zoalpi. Zoalpi? O Zaipi? Zoipi. Benvenuto e grazie per il follow. Sì, dopo torre G5... Come scusa? Dopo torre G5 alla quarantesima, quando giochi scacco, torre G4 scacco, torre G5 di 4 e poi torre G5 di nuovo, l'engine da 0-1-0-2. Ah. Quindi... Poi ripeto, io di solito questi finali non li gioco perché giocando 3-0 finisce il tempo. Quindi... Sì, sì, quindi dici, i finali proprio non ti serve saperli, tanto per definizione proprio. È un po' brutto da dire, però purtroppo. Nel mio non essere veramente uno scacchista, sì. Ecco, sì, si ripercuota anche su questo. No, vabbè, comunque sì, in effetti forse tenere due torri mi teneva più tranquillo, invece... Cioè, io l'avrei fatto solo veramente per tranquillità, senza fare grandi calcoli, però... Mi sembra di tenere maggiormente... Aver più controllo più che altro su quel pedone passato, perché con una torre sola diventa più ostico. Solo quello. Cioè, la maggior parte delle mie analisi sono fatte su questi ragionamenti. Sì. Ripeto, è triste, però... È la verità. Comunque, credo che sia anche complicata questa... No, sicuramente è più facile da gestire questa... No, 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 è complicata. Torre di 5. Era complicata, era complicata già l'apertura. Sì, 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 è... In realtà poi a un certo punto non stavamo malissimo, anche con la torre su in settima. No, 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 perché eravamo riusciti a riqualizzare, a metterla, a renderla più o meno pari. Sì, sì, sì. Ma tu da quanto è che giochi a scacchi? Eh, boh, da quando avevo... Vabbè, ho iniziato a muovere i pezzi a 5 anni. Il primo torneo 2006, credo. No, 2005, forse 2005 o qualche rapid. 2005, sì. Sono 14 anni di scarzume. No, però in realtà, prima di arrivare all'università non ero così trash, non ero così. Era un giocatore più... Molto più solido, posizionale, sì, sì, sì. Eh, sì. Sì, sacrificavo spesso pezzo per due pedoni, ma per quello, insomma, è niente di che. Routine, diciamo. No, ma io conto giocatori molto forti, tendo a far far loro tutto quanto. Ci mi metto in difesa e al massimo mi schiacciano, però... Ripeto, il vantaggio dell'essere un giocatore amatoriale che gioca solo blitz è che nelle 3 più 0 non hanno proprio tantissimo tempo quelli forti per calcolare veramente delle linee che ti schiacci, no? E ti mettono in serie difficoltà. Quindi se giochi sistemi abbastanza chiusi e più o meno capisci come gestire alcune strutture riesci più o meno a pattare o a vincere anche alcune posizioni, soprattutto se iniziano ad attaccarti. Sì, sicuramente questo è vero. Però c'è anche da considerare che così stai, diciamo, giocando a un sottogioco degli scacchi. Sì, 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 sono d'accordo, sono d'accordo. Cioè non stai vedendo gli scacchi a completo, stai vedendo... Sì, sì, sì. Ma infatti è per quello che non gioco veramente OTB, perché so che comunque già nelle 10 minuti ho grandi lacune. È così. È così, secondo me dovresti formare seriamente il tuo... Diciamo, la tua conoscenza scacchistica, se vuoi fare... Sì, sì, sì. Mettaci a studiare. Sì, questa cosa comunque si può ripercuotere anche nelle 3-0, secondo me. Cioè nel senso che... No, ovvio, se sei un giocatore più completo nelle 3-0, se sei un giocatore comunque più completo giochi meglio. Esatto, esatto. Non ci piove. Quando vedi giocare Nakamura alle 3-0, è comunque Nakamura che gioca alle 3-0. Eh, sì, è proprio vero. Nakamura ne sa pacchi su queste cose. Un salutone a Nakamura Icaro che ci starà seguendo sicuramente. Che ci sta seguendo, secondo me. Sì, sicuramente. Allora, cosa succede? Sì. 10 minuti a tavolino, non sono 10 minuti online, dice Franco. Oh, Ciccio Petracca mi chiede di controllare la chat. Ah, secondo voi, chi è molto bravo a scacchi solitamente nella vita a cosa è portato? Alla solitudine. Questa è la prima cosa che penso. No, no, vabbè, no, a parte gli scherzi. Insomma, comunque questa forma mentis, secondo me, è più... Cioè, ti dà una competenza trasversale che si può usare un po' di tutto. Cioè, alla fine cose impari a pianificare, ad avere un senso geometrico, a saper vedere avanti queste cose qui le puoi usare un po' ovunque nella vita. Che poi, incidentalmente, ci sono molte persone che facciano materie scientifiche, eccetera, e... Anche buone capacità mnemoniche, in alcuni casi. Aiuta la memoria, spesso. Sì, sì, sicuramente questa è un'abilità. Stavo elencando giusto alcune, però... Chiaramente sì. Secondo me si può fare un po' di tutto. Certo. E tu cosa pensi? Ma, secondo me, è un ottimo modo per... Cioè, come tempo... Come passatempo, fra virgolette, se uno soprattutto gioca... Come sto giocando io, ovvero in maniera amatoriale. Può essere veramente molto più utile rispetto a chi giocava su una partita FIFA oppure a COD. Sì, sicuramente, sicuramente. E anche se devo dire che ultimamente sto proprio giocando... Sto cercando di giocare a diversi FPS, comunque giochi così, perché... Mi sono reso conto che fare quello mi fa anche variare un attimo mentalmente, no? No, poi ovvio non è che non si debba fossilizzare su qualcosa, ovvio. Sì, sì, quello sì. Quello sì. Ok, spero che abbiamo risposto alla domanda. Abbiamo raggiunto quanti follower adesso? 967, ragazzi. Siamo a meno 33, come gli anni di Cristo. E credo che questa diretta abbia raggiunto proprio l'acme, l'apice totale. Ti ringrazio, allora. Grazie a te per aver partecipato. E quindi io direi che questa diretta si può chiudere. Ciao. Ciao, chiudo anche Discord. Salute a tutti. Ciao. Ciao, Manuel, grazie. Super. Grazie a te. Ok, chiuso Discord. Perfetto, ragazzi. Vi ricordo, se non seguite ancora CessoSide, di rifarlo, perché le dette sono fighissime. Ne sono venute da questa, è venuta proprio su un bijou. E seguite CessoSide sui social è imperativo. Su YouTube, dove carico gli ispezioni delle dirette, è importante. E mi raccomando, ragazzi, sappiate che giocare trash è il modo migliore per fare cash. Perfetto, ragazzi.